Un'altra manifestazione da parte di Estincio Rebellio davate al Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello. Come mai siete sdraiate per terra? I vostri compagni attivisti sono incollati alla porta. Abbiamo provato anche noi ad incollarci ma siamo state bloccate e ci siamo comunque sdraiate per terra per portare a termine l'azione che ci eravamo prefissate, ovvero di bloccare l'entrata al Palazzo della Regione Piemonte perché oggi per la seconda volta di questa settimana siamo qui perché vogliamo ricordare alla Regione che quello che stanno facendo non è abbastanza e soprattutto che quello che noi stiamo chiedendo è semplicemente di agire e di riconoscere che questa siccità non è un evento contingente che sta accadendo ma fa parte di un evento più grande che è il cambiamento climatico e che va affrontato non con semplicemente delle azioni di cura ma delle azioni preventive che vanno prese adesso come noi chiediamo da ormai due anni e come abbiamo chiesto a febbraio durante il nostro Consiglio regionale aperto a cui abbiamo partecipato dove siamo stati ignorati. L'assessore Ricca ha detto che manifestare è lecito, quindi l'avete preso in parola? Beh sì, però ha anche detto che è lecito ma non va bene sporcare con la colla ebbene noi questa risposta l'abbiamo interpretata come non sufficiente perché non è stato per niente preso in considerazione il nostro messaggio ed è stato spostato invece su un errore marginale che abbiamo fatto perché la colla con cui abbiamo attaccato i volantini era fatta di farina e acqua e quindi poteva essere semplicemente lavata. Grazie Prego Grazie Grazie a tutti.